Bella a tutti ragazzi, sono Salvi il Trasravanta e oggi un nuovo episodio di Road to Divisione 1 sempre con Enrico, ciao buon calcio a tutti e con il Napoli oggi, dobbiamo cercare di vincere siamo due sconfitte e una vittoria solo, quindi ci serve assolutamente la vittoria l'Armero, nuovo arrivato del Napoli, palo fuori, ora vediamo con che squadra giochiamo Enrico vediamo con chi è, ancora il Borussia, ancora il Borussia di Copp, mi fa un po' paura Guzzi in attacco, Guzzi seconda punta, però dobbiamo reagire, tu devi reagire, mi raccomando forza Napoli, forza ragazzi, solo per oggi però, anzi centralmente, serve Pander, tutto solo, tutto solo palo, incredibile, subito in rete è il Matador Cavani secondo me, quest'ora esce, in che senso, abbandona la partita, perché forse tu non lo sai, però se uno segna, nei primi tre minuti, e poi esce, uno apprassi molto scorretto, non la conta come sconfitte diciamo, è un peccato, questo è il pallone, Pablo ce la possiamo fare, questo Berami, Valon Berami, supera l'avversario, serve Pander, il Macedone, perde il pallone a vantaggio di Subotic, Subotic, il contrastato per Guzzi, Lewandowski, Marco Reus, la sterzata di Reus per Lewandowski, Marco Reus per Guzzi, Marco Reus, un paio di giochetti, per Guzzi fuori giù, ragazzi chiedono per un giro questa mattina, ma per indio, molto, molto bene, Gundogan, per Guzzi centralmente scambiano i due, Gundogan, per Lewandowski, perde il pallone a vantaggio di Amsic, quest'oggi gioca a trequartista, Inler, possibilità di profondità, Pandev, il Macedone, tiene il pallone in gioco Pandev, Pandev, contrastato, mette il pallone in mezzo, Inler, Gokkan Inler, lo svizzero, un sabato fortunato, gran gol di Inler, di testa, la zuccata, dello svizzero di origini turchi, e Hummels, la terza per Marco Reus, intervento, proiezione per il Napoli, Zuniga, per Pandev, Zuniga, per poi partire in contropiele, perché entrano meglio, un po' come il Napoli di Mazzarri, Pandev, scambia con Inler, riconquista Pandev il pallone, si accentra, soffra nel pallone, su Bottic per Reus, 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 gran numero di Reus, il tedesco perde il pallone, riconquista Cannavaro, reintegrato nella rosa del Napoli, Amsic perde il pallone, ma avrei visto che tolta la squadra, si si, è pure un punto, i due punti su Totti, quindi ora è a meno 5 dalla Juventus, Pandev, Pandev supera il diretto avversario, Goran, vai, il più grande Goran perde, anzi, riconquista il pallone e lo perde di nuovo, vantaggio di Lewandowski, Lewandowski nessuno lo contrasta, può andare incontrastato, Cannavaro gigioneggia e fa male, però riconquista il pallone, Paolo Cannavaro per Gokkanidler, Pandev, Zuniga, Zuniga perde il pallone, vai in un minuto, perde il pallone, Lewandowski, Maggio, non è un problema ragazzi, Schmelzer per Nuri Sahin, tornato al Borussia dall'esperienza cattivissima al Real Madrid, Pandev, Pandev in profondità, Pandev, serve Cavani, spalle al difensore, lo supera, è davanti al cortiere, vai Deinfeller, rete, Edison, Cavani ragazzi, Edison Matador, Cavani, doppietta personale per lui, questo ora mi quitta, e finisce prima la parte, Questa? Quinta l'ha vedere? E' un'impa, non è detto, non è detto, non è visto, non è vista, resta, 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 rois, poi l'azio che aveva fatto, no, sei stato, che è buono, Zuniga per Pandev chiude Subotic. Piszczek per Götze. Se c'è uno a terra, c'è un dotatore a terra che si rialza. Cannavaro per Amsic. L'Apoli sta vincendo 3 a 0 però dovrebbe allargare un po' di più il gioco. Amsic, il gioco di contrasti perde l'ultimo. Reusk è infortunato. Lewandowski ancora per Reus. Chiude bene la difesa del Napoli di Mazzarri. Miller per Juan Camilo Zuniga. Amsic può andare davanti al portiere. Tira Amsic. Traversa ancora. Mamma mia, questo lo sto mangiando. Himmler per Pandev. Amsic perde il pallone. Cavani matta la dora. Ancora davanti al portiere. Il tiro a rete. Contra 0. Tripleta di Cavani. Ma hai visto che il gol ha fatto? Certo. Mamma mia, un sicuro imprendibile diciamo. È abbastanza imprendibile. Guarda. Pan! Sì, sì, è abbastanza imprendibile. Cavani. Aspettiamo il quit. Sei un buon pessimista. Vabbè, quando arriva 4-0 poi l'avversario assolutamente esce. Ora ti stanno smentendo i fatti però. Vabbè, ora ce lo tieniamo. Gruzze. Perde il pallone a vantaggio di Cannavaro. Ora non mi segno più. Perami, perché? Se no mi rovina l'episodio. Perché esce, capito? Vabbè. Guarda. Gundo Gamper-Royce. Il tedesco. Guarda. Pallone arriva, Pashikovski. Guarda. Guarda. Un calcolo di punizione per il Napoli. Alla battuta Cannavaro. Il pallone era cieca. Pandev. Pandev per Zuniga. Vai. Zuniga. Corre come un forse nato Zuniga. No, chi era il punto, il punto Gamper? No, era più vero. Piszczek, Ghezze per Lewandowski, Ghezze, ottimi numeri davanti a Morgan, Fauccio-Canavaro in calcio tranquillo, battuto per spingere la difesa, Matador per Cavani, per Panthers, scusate del fatto di fregare. Marco Reus sulla destra, può mettere in mezzo, Gündogan per Lewandowski, Schmelzer, Gündogan, può tirare, lo fa, Desantis, sembrava smacciato, sembrava aver calcolato male la posizione del... Invece fa proprio paura. Il pirata! No, no! Hai da il rete. Rete di Gündogan, DeSantis, il pirata fa quello che può. Il pirata, la barata del pirata, proprio un gollo di merda. Siamo 4 a 1, sai? E' un po' più spessore per l'avversario. Beh sì, questa diciamo che è iniziata bene, l'avversario non è forte, quindi si può vincere la partita tranquillamente, senza alcuni problemi. Peccato per questo gol di Marta che mi ha fatto il gol. Senta che fra due settimane ricominciano le coppe europee, il Borussia. Con chi gioca? Il Borussia per adesso deve riferire un po' di punti dal Bayern 1, dopo questa, sarà impegnata in Champions, così come Napoli, in Europa League. È fallo! Blasikowski, il polacco per Goethe, Lewandowski, Antonio per Blasikowski, bella azione del Borussia. Chiusa da Campagninaro, Cristian Maggio, il nazionale azzurro, per Cavani sulla fascia, riesce a mantenere il pallone in gioco, per Berami, può calciare, lo fa! Uuuuh! Brivido! Berami, sulla schiena di Weidenfeller. Ballone per Ischek? Ma chi è? Si è fermato. Quasi. Goethe, Goethe, centralmente per Lewandowski, per Nuri Sahin, bella azione, Goethe davanti a De Santis, Goethe, rete, 4 a 2, 4 a 2, Savi Ultras. Ora inizia a far paura. E ora si. Ora devo mantenere. Fai girare il pallone, Savi Ultras, perdere un po' di tempo. Non vorrei che fosse come la partita Germania-Svezia di qualche mese fa. Da 4 a 0, 4 a 4, mi raccomando. Berami sulla fascia, per Inler. che conquista il pallone, Borussia Blaschikowski, sulla sinistra per Goethe, centralmente Lewandowski. Attenzione qui, De Santis esce in tempo. Berami, Valon Berami, intervento, sul pallone regolare, perché io me lo stavo scartando. Goethe, Lewandowski, Berami riconquista, Cavani, Matador, supera il diretto avversario, sulla fascia può andare. Ci sono due giocatori in mezzo, crossa, attenzione, respinge, Umels, Blaschikowski, perde il pallone a vantaggio di Berami, che può servire Cavani, ancora sulla stessa corsia, chiude Subotic, sulla sinistra per Blaschikowski, Goethe, Goethe si accentra, il tedesco, vince un contrasto, Lewandowski, Gundogan, ancora per il compagno, passaggio che non va a buon fine, Berami, Cavani, il Matador, supera sempre Subotic, Matador, riconquista il pallone, Blaschikowski, Corri sulla fascia, perde il pallone a vantaggio di Maggio, Schmelzer, Lewandowski, Lewandowski, ma per favore rivido, rivido per il Napoli qui, poteva andare sul 4-3 il Borussia, voglio cercare il suddine, si è qualche ruolo, Goethe, ricomposta il pallone il Napoli, Jamsik, perciò perde il pallone, doveva aspettare qui, Pandev, il Macedon perde il pallone, Cavani, il Matador, riconquista ancora il pallone, Goethe, Lewandowski, aggira l'avversario, si allunga il pallone, meglio così, Berami, Berami, giochetto di Berami, gioco di prestigio di Berami, che ora deve esibire, Amsik lo fa, Berami, attenzione, Amsik, Amsik, troppo d'esterno, il papello va fuori, Berimessa, Berussia, stringiamo i denti ragazzi, Blasikovsky, conquista il pallone Maggio, Maggio, dice un contrasto Maggio, può crossare Maggio, ma non lo fa, non lo fa, torna indietro, e ritorna il pallone, torna indietro, e si con questo è il pallone, stai lui, trasferta il tempo, dai ragazzi, dobbiamo vincere, Berami, per Maggio ancora, cross adesso, libero Cavani, Amsik, Lewandowski, grande giocatore Lewandowski, Nuri Sahin per Blasikovsky, si accentra, Sahin, il turco, Lewandowski, Lewandowski per Sahin, davanti al portiere, grande, uscita di De Sanchi, senza paura, il cuore vi giuro che siete venuti così, perché Amsik perde il pallone, Lewandowski, ma guarda che culo, posizione regolare, Sahin, davanti al portiere, 4 a 3, Nuri Sahin, al 79, riapre i giochi, ti ricordi Germania-Svezia, Mamma mia ragazzi, che si fa da 4 a 0, era il primo tempo stellare, ho preso anche due pari, Cavani, deve gestire il pallone, Maggio, supera l'avversario, Maggio, difende il pallone, torna indietro, e fa bene, anzi no, può crossare, lo fa, il pallone è bello, Amsik, Cavani, l'acrobazia non va a buon fine, attenzione qui, deve temporeggiare Savi Ultras, Lewandowski, sulla sinistra, Lewandowski, non dovrebbe tirare, ma lo fa, 4 a 4, gran gol di Robert Lewandowski, senza parole, il porco, classe 88, senza parole, Brani, ora l'inizio è tutta dalla parte del Borussia Dort, Savino però, c'è ancora il tempo per fare un gol, Berami per Maggio, la palla è buona, la palla è buona, può crossare, Maggio, Cavani, Cavani, Maggio, ma Cavana vatterà, Cavani, pallone fuori, era in vantaggio, sul suo avversario, peccato, peccato, Savi Ultras, Spreta, un vantaggio consistente, veramente consistente, Cavani qui, farò laterale, Berimbo, anzi no, per il Napoli, per il Napoli, può essere una buona occasione, Maggio, Berami, ancora Maggio, per Cavani, Cavani qui deve, ma come ha fortunato, Max Hummels, Lewandowski, ancora spalla alla porta, Reus, Reus, può servire Lewandowski, Canavaro in vantaggio, sembra di sì, sì, pallone per De Santis, adesso è più ultra, aspettiamo dentro un gol, Berami per Maggio, non ancora, Maggio adesso sì, Christian Maggio, Christian Maggio, perde il pallone Maggio, ma lo riconquista Berami, ancora per Maggio, posizione regolare, posizione del pallone, ma che pazzo di pareggio di merda, ma va a cagare, ma com'è che si fa da 4 a 0, questo mi va a recuperare una partita, già vinta, ma è assurdo, veramente, qui siccome il computer, ci mette pure del suo, capito, diceva, lui deve pareggiare, qui, non va, sei complottista, eh sì, ormai è così, che si sente, non c'è, vabbè, dai, non puoi, vediamo quanto è il computer, dall'altro, che si vedrà, dentro Vender, guarda quanto è il dicappato, Schieber, Schieber, per Grosskreuz, Campagnaro riconquista, serve Maggio, Maggio per Berami, forse l'ultima occasione, Berami finisce qui, finisce qui 4 a 4, cioè, su 4 a 0, 4 a 4, una rimonta del mio avversario, è un pazzesco, ragazzi, quindi, pure questo episodio, vi è andato, abbiamo pareggiato, quindi sarà sempre più difficile, sarà sempre più difficile salvarsi, e quindi, ciao, al prossimo episodio, bella, ciao, ciao,